Siamo gli studenti e le studentesse del liceo artistico Anton Giulio Bragaia di Prusinone. La nostra scuola è Pericolo, la sua memoria e il suo nome. Noi, con i nostri docenti, abbiamo deciso di difendere la memoria di Anton Giulio Bragaia, un'artista prusinata e di fama internazionale. Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore la storia, la cultura della nostra provincia, della nostra città, chiediamo ai cittadini, ai studenti e alle istituzioni di essere al nostro fianco, perché la cultura batte nel cuore del futuro.